E' un ritorno nella sua diocesi, quello del cardinale Angelo Scola, che ieri ha incontrato gli esponenti del mondo della cultura e della comunicazione. Sono qui per ascoltare, ha detto il successore di Tettamanzi, Milano ce l'ho nel cuore, ma il distacco da Venezia si fa sentire. Man mano che in questi tre mesi mi sono avvicinato a Milano, questo sentimento pacifico del tornare a casa mi è entrato nelle vene, nei polsi, nel cuore.